Appello sul blog di ristretti.it della figlia di un uomo detenuto nel carcere di Sulmona ricoverato per male incurabile. La famiglia chiede che possa morire a casa, il magistrato non si pronuncia. Una ragazza di 22 anni ha lanciato un appello disperato per suo padre, 56 anni, attualmente detenuto presso la casa di reclusione di Sulmona e gravemente malato. Il padre in fin di vita vorrebbe poter lasciare questa vita tra le mura di casa ma il sistema non risponde tra un rinvio e l'altro, si rischia che la decisione del magistrato arrivi troppo tardi. Temo che mio padre morirà nelle mani dello Stato, di quello Stato che avrebbe dovuto punirlo per i reati commessi ma anche curarlo perché mio padre è gravemente malato, racconta la figlia spiegando anche le patologie da cui effetto l'uomo. Mio padre non deve stare in carcere, ha spiegato la ragazza perché non può rimanervi ancora. L'hanno detto i sanitari della casa di reclusione di Sulmona. Non sono praticabili adeguate cure presso la casa di reclusione e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. L'hanno detto anche i medici dell'ospedale civile di Sulmona che non è in grado di assicurare la dovuta assistenza sanitaria. Lo hanno rappresentato i legali con istanze rivolte all'ufficio di sorveglianza dell'Aquila di ricovero urgente presso strutture altamente specializzate, nonché con istanze di differimento pena con procedura d'urgenza e poi di sospensione dell'esecuzione della pena. Però tutte le istanze difensive e tutti i solleciti non hanno trovato risposta. Mio padre in questo momento è condannato a morire. Tante volte seguendo la cronaca aggiunge la ragazza in casi simili ho pensato se succedesse a me fare l'impossibile, protesterei, mi incatenerei. Adesso che invece sono coinvolta io in prima persona avverto forte il senso di impotenza e senso di abbandono da parte delle istituzioni. Questo è un ulteriore tentativo, ha concluso la giovane, affinché sia consentito a mio padre di lasciare carcere e di curarsi, alleviando i dolori di morte che lo affliggono.